il clima ideale per giocare a calcio non c'è nemmeno una nuvola il terreno è in condizioni perfette Pierluigi Pardo e Daniela Dani di nuovo in cabina di commento per raccontarvi questo match gara che promette davvero tanto speriamo che lo spettacolo sia all'altezza del nome delle due squadre in campo un saluto a te Pierluigi e agli amici a casa ne ho viste commentate tante di partite ma ogni volta è come se fosse la prima non vedo l'ora di iniziare era fallo ma c'era norma del vantaggio aspettativo di pressing contrasto vincente guadagna metri buona rituizione qui iniziativa che non si concretizza pinzi palla che finisce sul fondo ha perso la buona occasione intercetta bene il passaggio buon morto a cena che prosegue si affacciano nella trequarte avversaria subito smentiti sfuma l'azione sfrutta la corsia laterale traversione al centro controlla bene traversione qui pallore che ha superato la linea laterale salva tutto qui buon morto buon morto la ribalta sul fronte opposto efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi giocata che non porta a nulla superata la metà campo pinzi ma duro giocata giocata quasi ipnotico non vogliono buttarla via attento il portiere non è finita si resta come prima ecco l'efficace qui può girare il pallone pinzi di Natale Lewandowski provo a farla passare occhio alla conclusione 1-0 arriva il gol del vantaggio replay che evidenzia l'intelligente palafiltrante a tagliare la difesa nell'azione del gol hanno capitalizzato al meglio la superiorità numerica per battere il portiere un gol facile facile hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 prima frazione che sorrida agli ospiti che possono andare a riposo in vantaggio ancora poco da giocare è presto per cantare vittoria Pier manca ancora un'eternità alla fine c'è una vita da giocare commetterebbero un grave errore se si rintanassero dietro difesa del risultato non esiste più speculare nel calcio devono farne almeno un altro per mettere la partita in discesa e giocare più tranquilli il risultato favorevole gli consente di gestire il pallone e giocare con il cronometro ribalta il fronte dell'azione di Natale cercano spazi attenzione tutto solo un intervento che vale come un gol l'arbitro non interrompe c'è norma del vantaggio Lewandowski legge bene e interrompe l'azione avversaria ha spazio davanti a sé Maduro finisce qui la prima frazione squadra che fanno rientro negli sfogliatori squadra che fanno rientro ma squadra di nuovo in campo per il secondo tempo attacca lungo l'auto, ci sono metri, libera male sul traversone, occhio potevano far male da lì provano a farsi vedere in avanti buona circolazione palla, perdono banalmente il pallone hanno campo, possono far male con la ripartenza la perde alza la parabola per sorprendere la difesa recupero fantastico, sbroglia, una situazione difficile buon morso alla palla buona, tackle davvero efficace allontanato il pallone passito male qui il pallone pinzi cerca l'imbucana del compagno ecco il gol, è la rete nel più due che dà un po' più di tranquillità punteggio che è cambiato, ora conducono per due reti a zero avviso importante che si è fatta preferire nel possesso palla lo confermano anche i numeri stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco il giro palla è perfetto vedi non forzano mai la giocata e aspettano il momento giusto per verticalizzare e infatti la fase difensiva avversaria non riesce a prendere le giuste contromisure c'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out grande intervento del difensivo lancio fuori misura palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale recuperano il pallone in una zona interessante ce lo beve tiro respinto intervento pulito sul pallone minaccia sventata palla che è terminata sul fondo si ripartirà con la rivessa pinzi stanno vincendo fitta rete di passaggi non hanno ovviamente molta fretta avanza verso la porta pinzi di Natale non hanno ovviamente fretta non c'è bisogno di accelerare comodo possesso palla nella propria metà campo mancano dieci minuti alla fine della gara pallone interessante che errore il portiere qui deve ringraziarlo che gol si è mangiato pier ma i tifosi qui in tribuna stavano già per risultare ha un'autostrada davanti a sé e c'è la rete e la rimettono in piedi attenzione sono a meno uno punteggio cambiato ora siamo sul risultato di 2 a 1 maduro 5 minuti alla fine avanti di un gol tutto può ancora succedere pallone che è uscito ci sarà rimessa dal fondo provano un ultimo risperato tentativo per pareggiare senza problemi qui per la difesa intervento prezioso punta la porta non lo chiude nessuno attenzione c'è il pallone giusto per chiuderla ci arriva il portiere ma non è finita azione che non ha portato a nulla così può bastare importante vittoria fuori casa che iniziò non lo chiude ma non lo chiude ma non lo chiude non lo chiude Grazie a tutti